Rieccoci qui a parlare di Uomini e Donne, video, e di quello che è successo ai protagonisti dello show durante l'ultima registrazione del Trono Over. Oggi 8 novembre, infatti, è stata registrata una nuova puntata dedicata alle dame e ai cavalieri dove, come sempre, non sono mancati i colpi di scena e le discussioni. Al centro di tutte le vicende principali come sempre c'è stato il triangolo formato da Cancelletto Gemma Galgani, Cancelletto Giorgio Manetti e Tina Cipollari. Ma vediamo insieme cosa è successo.Le accuse di Gemma nella puntata di Oggi Gemma Galgani, video, ha deciso di rivelare al pubblico qualcosa di veramente sorprendente sul conto di Giorgio Manetti e Tina Cipollari.La dama più famosa del Trono Over, infatti, ha affermato davanti a tutti di pensare che fra l'opinionista ed il gabbiano ci sia del tenero. Gemma ha inoltre affermato di aver scoperto che in diverse occasioni Tina e Giorgio hanno fatto diverse serate insieme e che qualche tempo fa la Cipollari era stata vista andare a Firenze di nascosto.La Galgani ha anche ammesso di credere che la relazione segreta fra il suo ex e la Cipollari vada avanti già da più di un anno. Ovviamente le parole di Gemma hanno fatto andare su tutte le furie Tina che come al solito ha cominciato ad inveire spietatamente contro la Galgani. Quest'ultima però ha continuato lo stesso a mantenere fermamente la sua posizione e le sue convinzioni nonostante Giorgio e l'opinionista continuassero a negare di avere una storia d'amore.Un amore mai finito la Galgani dopo aver affermato di pensare fermamente che Tina e Giorgio abbiano una relazione, ha anche dichiarato di essere rimasta piacevolmente sorpresa delle parole che il Manetti ha speso nei suoi confronti in una recente intervista? C'è da aggiungere infatti che il gabbiano qualche giorno fa ha rilasciato al giornale nuovo alcune dichiarazioni in cui descriveva la storia con la Galgani come una delle storie più importanti che ha avuto. Inoltre Giorgio ammetteva anche che nella sua vita probabilmente non riuscirà mai a dimenticare Gemma.Ritornando alla registrazione di oggi, Maria De Filippi dopo il riferimento fatto da Gemma alle parole di Giorgio, ha chiesto alla Galgani se ancora fosse innamorata di lui. Ovviamente la donna non ha voluto rispondere a parole alla domanda, ma a detta dei presenti i suoi occhi ed il suo viso lasciavano intravedere chiaramente i sentimenti che ancora la donna prova nei confronti del suo ex. Vi ricordiamo che se volete rimanere sempre informati su tutte le nuove news provenienti dal mondo del gossip, della televisione e delle soppopera in generale, seguitemi e rimarrete sempre aggiornati. Cancelletto Uomini e Donne Anticipazioni